Alla fine arriva un punto, che può sembrare poco, considerando che era uno scontro diretto, ma che vale tanto per l'evolversi della gara. La Bartocini forti infissi Perugia cede solo al tie-break, al busto Arsizio, in un pala a Barton ancora deserto, nel primo dei due recuperi casalinghi. Un 3-2 rocambolesco, con le magliette nere costrette a inseguire lo 0-2, ma capaci di girare sull'8-6 a favore il tie-break. Poi una Mingardi incontenibile trascina le Lombardi a vincere 15-12. E pensare che le Perugine erano partite forte, guidando il primo set fino al 23 pari, condotte da una Velcova ispirata, 24 punti alla fine per lei, e un Ortolani sempre al top. A corrente alterni invece la di Iulio, che usciva nel finale di set, e busto Arsizio trovava il guizzo per il 25-23. Secondo parziale, con lo stesso punteggio, ma andamento diverso, con la squadra di Fenoglio sempre avanti. E Perugia, che sfiorava la clamorosa rimonta dal 24-17 al 24-23, per poi cedere su un punto di seconda. Terzo parziale all'insegna del riscatto, con la Bartoccini, che vinceva facile 25-17, e agguantava poi il pari, con brivido nel quarto parziale, facendosi rimontare dal 24-17 al 24-23. Ma era ancora Velcova a portare il match al quinto. Nel tie-break, una Mingardi straripante faceva la differenza e veniva premiata MVP della gara, anche se alla fine Mazzanti, pur con qualche rimorso, ha elogiato la prova di carattere delle sue ragazze. Nei primi due set non abbiamo rischiato mai. Abbiamo perso 2-7 a 23 senza tanti errori. Busto nei primi due set ha fatto il doppio d'altro errori, ma perché ha cercato di vincere la partita. E questa cosa l'abbiamo capita troppo tardi oggi, quindi il tie-break secondo me ci sta, di perdere un tie-break a 12. Invece nei primi due set secondo me potevamo fare qualcosa di più, quindi il rammarico di oggi sono quei due set giocati senza rischio, senza troppo coraggio. Oggi abbiamo faticato di più, ma perché secondo me quando fai fatica in attacco è difficile stare dentro la partita. Quindi il nostro obiettivo è migliorare sicuramente il nostro attacco. Abbiamo tanto margine e stiamo facendo ancora tanta fatica e quindi il nostro obiettivo è migliorare questo aspetto.